Signor Omar, qui in Corso Verona a Torino ci sono molti problemi. Come ha te vista per i diritti delle persone migranti? Che cosa si può dire? È un problema i diritti dei migranti, soprattutto che è legata con i documenti. Dobbiamo sapere che il diritto principale è avere lavoro, una vita normale, è legata il documento. Senza documento è un guai, anche per pagare tasse. Uno stanno perdendo il lavoro, è impensabile, un rifugiato conosciuto dallo Stato deve aspettare, prima premesso, dieci mesi. E non solo appuntamento, dopo che ha chiesto di nuovo un'altra, un anno, un anno e mezzo. È una vergogna, è un diritto principale. Chi lavora, chi paga tasse, chi vive in questo paese, chi ha fatto una vita, anni e venti anni, trent'anni, che devono avere normalmente i diritti principali che si aspetta. Questo siamo oggi per dire, bisogna far valere i diritti. Grazie signor Omar. Prego.